Il piano rifiuti Regione, via libera al bilancio consolidato 2022. L'aula ha approvato con voto favorevole a maggioranza, 19 sì e 11 no. Il Consiglio regionale della Toscana approva a maggioranza l'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Piano regionale dell'economia circolare. A termine del lungo confronto in aula il piano passa con i voti della maggioranza, 22 voti a favore dal Partito Democratico Italia Viva e il voto contrario delle minoranze, 13 voti contrari dal Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. È una visione che la Giunta prima e il Consiglio regionale poi nell'adottare questo piano vuol dare alla Toscana. La riduzione dei rifiuti, politiche anche industriali che questo consentano, ma anche il riciclo, il recupero, il porta a porta, la differenziata, tutto quello che rientra in questa visione davvero che noi abbiamo, cioè di provare a rendere questo nostro territorio dal punto di vista ambientale e della salute più compatibile con le richieste che ci vengono tutti i giorni, dai più giovani alle persone più anziane. Però dotare questa regione anche di tutta quell'impiantistica che consente alle imprese di trovare nella regione un'economicità che vede anche nello smaltimento dei rifiuti che non rientrano nel piano perché si tratta di rifiuti speciali, ma comunque il piano tenendo dentro una visione anche della manifestazione di interesse. Vogliamo capire in questi 60 giorni che ci dividono dall'approvazione del piano dei rifiuti, perché a seconda di quante e quali osservazioni arriveranno significa che abbiamo o non abbiamo centrato l'idea di Toscana che vogliamo. Quindi si apre ora un confronto importante che faremo come consiglieri, andremo sui territori, continueremo ad ascoltare i portatori di interesse e capiremo se dobbiamo, se possiamo, se vogliamo modificare ancora questo piano che arriva al 2035, quindi insomma è lontano. Questo piano fa un sacco di discorsi, è molto ideologico, richiama tanto l'economia circolare di cui si trova traccia nella normativa europea, nazionale e anche già regionale e quindi in realtà bisognava passare al concreto. Dal 2017, anno in cui non è stato fatto il famoso termovalorizzatore di case Passerini, lato centro, che è quello dell'area metropolitana, si trova in squilibrio strutturale con i rifiuti che vengono portati fuori regione, fuori Italia oppure in altri ambiti come quello dell'ato costa. Questa è una situazione insostenibile e questo piano non risolve questo tema. Non dice quasi nulla sulle compensazioni economiche a favore dei comuni che comunque già ospitano impianti, non dice quasi nulla sulla riduzione che è il vero obiettivo e sul riciclo dei rifiuti. Si è limitato sostanzialmente a registrare le proposte da parte degli operatori privati e pubblici, il famoso bando, ma di queste 39 solo 18 ad oggi si sono tradotte in proposte, il che vuol dire evidentemente che manca in Toscana una regia seria sui rifiuti e purtroppo lo sconteremo in bolletta nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Io ritengo che questo piano in realtà fissa tre principi fondamentali. Il superamento delle discariche, che sono una vera e propria bomba ecologica da un punto di vista ambientale, non tanto nell'immediato ma per quello che saranno le nuove generazioni. Da più del 30% passiamo a non più del 10% dei rifiuti in discarica, dell'innovazione tecnologica, ovvero superiamo inceneritori, termovalorizzatori e andiamo verso nuove forme, l'ossicombustione, la scomposizione molecolare, che quindi rifiutano anche la stessa emissione perché i rifiuti li vanno a concentrare nel calore che poi può essere rigenerato per funzioni energetiche con quelle nuove tecnologie che saranno applicate negli impianti che vengono dal basso. In terzo luogo proprio la partecipazione e il senso di rivoltare l'impostazione per cui con un piano si impongono degli impianti dei rifiuti e invece noi vogliamo che proprio le proposte che vengono dal basso, comuni, enti di gestione, gli impianti dei rifiuti vengano a essere fatti laddove c'è un clima per cui un comune magari con l'obiettivo anche di ricavare risorse decide di fare impianti dei rifiuti. Questo piano dei rifiuti ha innanzitutto una gestazione lunghissima, lo attendiamo da 10 anni ed è quasi pronto da 3 e in realtà si è andato a creare grazie a quelli che sono stati gli interventi su avviso appunto fatto dalla regione dei privati. È un rovesciamento completo invece di essere la regione toscana che ha dato delle indicazioni a seconda di quelle che erano le esigenze di smaltimento, gestione, raccolta e rifiuti ha chiesto ai privati dove vorreste fare un impianto e in base a quello daremo un'occhiata e cercheremo di fare un piano dei rifiuti su quella impostazione. Non solo, finanziariamente l'intero piano si appoggia su alcuni aspetti e su alcuni impianti come per esempio il gasificatore di Empoli che è stato respinto dalla popolazione che in pratica sovverte completamente l'equilibrio finanziario di questo piano. Insomma probabilmente dall'adozione all'approvazione passeranno 60 giorni e dovrà essere radicalmente cambiato. In tutto questo i cittadini naturalmente si chiedono qual è il guadagno che ne avremo in termini di riduzione delle bollette, miglioramento della gestione, della raccolta e quant'altro probabilmente niente o addirittura un peggioramento perché all'interno di questo piano si va a inserire quel progetto drammatico della multi utility grazie alla quale un servizio come quello che viene fatto dal Comune di gestione di rifiuti verrà buttato all'interno di una borsa e quindi praticamente le tariffe dipenderanno da quelle che sono le scommesse degli investitori in borsa piuttosto che dal reale costo di quello che è il lavoro che viene fatto. Se è vero che c'è anche una necessità di accelerare i tempi perché la Toscana riscontra un gap impiantistico assolutamente grave in particolare in modo l'atto centro che è sotto gli occhi di tutti in questi giorni, è anche vero come ho messo in evidenza che la procedura che prevede l'approvazione del piano con una fase di adozione, le osservazioni e poi l'approvazione definitiva, laddove in sede di osservazioni il piano fosse largamente stravolto tornerebbe indietro in sede di adozione e quindi questo ci potrebbe far perdere ulteriore tempo. Poi che dire del piano? Il piano è un piano che non è coraggioso, non fa una scelta di pianificazione, nascondendosi un po' dietro le norme ma in realtà al nostro avviso, come ho detto in aula, l'articolo 199 della legge 2006 ci permetteva ampiamente di dare più supporto alle amministrazioni locali, alle comunità, agli ato per dare una direzione che servisse anche ad affrontare le difficoltà di quando si scende a terra con determinate tematiche su chi poi questi impianti si ritrova a casa. In secondo luogo c'è un impatto molto ideologico contrario ai termo valorizzatori ma ahimè gli impianti nuovi a cui si guarda anche attraverso l'avviso pubblico sono impianti poco conosciuti, difficilmente realizzati, ce ne sono pochissimi esempi quindi si sa poco di questi impianti, non c'è una concreta fattibilità sul campo. È un piano che è nato lungo un percorso partecipato da parte dell'assessorato ma anche uno straordinario lavoro è stato fatto dalla commissione consigliare che ha udito veramente tantissimi soggetti interessati e tantissimi sono i soggetti, sindacati, categorie, istituzioni che sollecitano appunto l'adozione di questo piano per poi andare avanti e proseguire nel confronto, nella discussione per arrivare a migliorarlo ancora prima dell'approvazione anche vedendo quelle che saranno le osservazioni che verranno presentate. È un piano che guarda al futuro e che è in linea anche con le indicazioni del guardare futuro che fa l'Europa perché è un piano che dà alcuni obiettivi importanti, quello della riduzione nella produzione dei rifiuti, della riduzione dei rifiuti che possono andare in discarica riducendoli a meno del 10% quando saremo a regime. È un piano che indica l'obiettivo di una modalità quali quantitativa migliore per quanto riguarda la raccolta differenziata e che dà degli strumenti per creare delle filiere industriali invece per il riciclo e il recupero dei rifiuti. La via è stata determinante nel sostenere un piano dei rifiuti che di fatto diventa un piano dell'economia circolare che noi abbiamo trasformato in piano industriale, un piano che produce lavoro, che produce energia, che produce calore, quindi fa dei rifiuti, una materia prima per la produzione industriale che in Toscana era necessaria. Una Toscana che diventa solidale dove territori importanti come Siena, Rezzo, Pisa, Livorno, Grosseto danno anche una mano solidaristica all'area della piana fiorentina che non è stata in grado in questo momento di riorganizzare al proprio interno la propria definizione infrastrutturale, la Toscana che diventa una regione unica. Per questo noi abbiamo anche sostenuto una battaglia di un ambito unico territoriale e continueremo a sostenerla. Il dato politico rilevante di questa battaglia sui rifiuti è che Italia Viva è stata determinante nell'accelerazione per l'approvazione di un atto che era dovuto dopo tre anni, che era un impegno di legislatura che fa ancora più salda il legame che c'è fra Partito Democratico e Italia Viva nel sostegno a Eugenio Gianni e in questo caso all'assessora Monni. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio consolidato per l'anno 2022 della regione toscana con 19 voti favorevoli di PD e Italia Viva e 11 contrari di Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Il bilancio ha la finalità di mettere in evidenza i risultati complessivi del gruppo amministrazione pubblica, ovvero la regione, più gli enti e le società considerati rilevanti. Il bilancio consolidato e raggruppa la regione e gli enti partecipati sostanzialmente al 100% o in house presenta dati in chiaro scuro. C'è un risultato formalmente positivo ma c'è un patrimonio netto, cioè la sostanza vera dell'aggruppamento negativo per circa 800 milioni. In questo noi abbiamo posto l'accento soprattutto su alcune società partecipate, vedi l'operazione di Fidi Toscana con la dismissione del capitale sociale, vedi il concordato preventivo che è stato omologato dal Tribunale di Pistoia per le termine di Montecatini di cui la regione è socia al 70% e che hanno un debito consolidato di oltre 47 milioni, vedi Firenze Fiera ed altre che come Commissione Controllo stiamo mettendo sotto i raggi X l'ultima in ordine di tempo alla fondazione del Museo Peci a cui la regione toscana negli ultimi anni ha dato diversi milioni di euro perché la gestione complessiva segna un segno meno, negativo e questo naturalmente deve servire a tutti di stimolo per dare migliori servizi ai cittadini e alle imprese con costi minori. Il consolidato ci parla di una situazione finanziaria ed economica della regione toscana e di tutti gli enti in qualche modo controllati, partecipati, delle società in house, di questa galassia complessiva capo all'ente regione è un bilancio positivo, il risultato economico del 2022 ci dice che rispetto all'anno precedente si è migliorato di circa 57 milioni, quindi un miglioramento significativo che ovviamente deriva anche e soprattutto dal bilancio della capofila che è l'ente regione toscana. Ci parla il bilancio del fatto che la galassia delle società controllate, partecipate e degli enti che fanno capo alla regione hanno bilanci in ordine, sono bilanci positivi, situazioni patrimoniali attivi e quindi questo ci conforta anche sul fatto che le risultanze dimostrano come anche in anni difficili, nonostante l'invarianza della pressione tributaria, i risultati economici ci dicono anche di un tessuto economico, di un'economia che nel 2022 è andata bene. La votazione a maggioranza dove Tel Aviv ha sostenuto l'operato dell'attività regionale nel corso del 2022, avevamo dimostrato che si poteva trovare un equilibrio di bilancio senza aumentare le tasse, ne è stata una battaglia politica che il sottoscritto ha portato avanti con forza in questi anni, serviva a non aumentare l'addizionale IRPEF, serviva a non aumentare il bollo ma serviva a dare dei servizi maggiori, più efficienti in termini qualitativi e su questo siamo riusciti a trovare un equilibrio di bilancio senza incremento delle tasse, quindi un impegno politico che abbiamo mantenuto grazie anche al nostro essere molto attivi nell'ambito di questa maggioranza di governo. Grazie a tutti!